Stai dicendo Un panorama nel quale non c'è una via d'uscita No ce n'è una ma io non voglio dire quella E no dicela Adesso ce la devi dire Non puoi lanciare il sasso La risetta di Oscar Giannino Una persona poco seria Io penso che dall'emergenza Napoli dai rifiuti a tutto il resto Ce ne accorgeremo solo Quando si risveglierà il Vesuvio Capiremo che lì non c'è legalità Più da nessuna parte Tanto più sarà intenso e violento Il risveglio del Vesuvio Quanto più forse rifonderemo Lo spirito civile della città Ma non intendo dire per le vittime i danni Visto che il Vesuvio però ci abitua Per chi ne ha studiato E eruzioni esplosive Tendono a essere di una certa importanza Io ricordo a tutti Che nella media storica statistica Siamo già fuori Quindi il Vesuvio potrebbe farci presto La sorpresa E io spero di no Però io penso che per rifondare Lo spirito e la legalità La compliance Come si chiama in termini britannici Alle norme di quella città Ci vuole questo Sentiamo Alessandro da Napoli Buongiorno Buongiorno Dica Io sono un vostro ascoltatore Tutte le mattine E in particolare Lo seguo anche Oscar Giannino Nelle sue trasmissioni Sono sempre puntuale Bene Sinceramente L'unica cosa che stamattina Mi è dispiaciuto a sentire Alla sua bocca Che è la soluzione Il problema della spazzatura A Napoli E il Vesuvio Questa sinceramente E la sua Faceva meglio A non dirla Io lo sapevo Che ci sarebbero state polemiche La sua lettura è un po' Trancian Però Oscar Rispondi ad Alessandro Io la posso capire benissimo Non sto dicendo Che il faro est Per colpa di chi ci abita È un'immagine forte Allora io questo dico Purtroppo Evocare immagini forti Serve non tanto A chiedere la solidarietà Perché Napoli su questo Il problema È se lo deve risolvere da solo Da 50 anni e più Ci sentiamo dire Colera Forza Vesuvio Grazie a dir Vesuvio È troppo intelligente Possiamo sentire Quattro deficienti Nessuno mai scrive niente Sui giornali Di questo ragione No